con cui mi sento di condividere tutti i problemi che ha avuto e quindi mi sono sentita, visto che mi piace anche la loro musica, di cantare un brano di un famoso cantante che si chiama Kadem al-Sahir e interpreterò questo brano dedicato a Bagdad Sai qual è la cosa più bella della diretta? Che non ti hanno dato il microfono e che io ti lascerò il mio microfono per cantare questo brano che si intitola? Bagdad, Tata El-Emi Ok, Bagdad e allora sulle note di Susanna Dumas Mi permetti di fare una cosa? Hi my friends! Eccoli là Un saluto a tutti gli amici dell'Iraq presenti This song is for you, questa canzone è per voi Prego Grazie 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 vediamo Grazie per la visione Ciao